Sei in menopausa e non riesci a dimagrire? Vediamo alcuni consigli che ti possono essere utili per migliorare il tuo stato di salute in menopausa. Considera che la menopausa è un processo fisiologico. A causa della diminuzione degli estrogeni si ha una variazione alla composizione del corpo, cioè della tua conformazione. Inizia a mettere molto più pancia rispetto a prima. Inoltre c'è anche una diminuzione fisiologica del metabolismo a causa della perdita di massa muscolare. Primo consiglio che ti posso dare. Devi mangiare un po' meno rispetto a prima. Se prima mangiavi in modo libero, senza nessuna regola, adesso devi stare un po' più attenta all'alimentazione che fai. Deve essere un po' più leggera e povera di grassi. Consiglio numero 2. Con la menopausa diminuisce il metabolismo degli zuccheri e dei grassi. Evita dunque tutti i prodotti confezionati, evita le merendine e tutti i prodotti che sono densi di calorie. Inoltre diminuisci anche gli zuccheri. Terzo consiglio. La dieta deve essere soprattutto leggera la sera. Vale sempre il consiglio di fare una colazione da re, un pranzo da principe e una cena da poverello. Quarto ed ultimo consiglio. Per contrastare la diminuzione del metabolismo, cerca di fare attività fisica di tipo anaerobico. Dunque ad esempio della ginnastica a corpo libero. Questo preserva la perdita di massa muscolare e dunque aiuta a stimolare anche il metabolismo. In definitiva, puoi dimagrire in menopausa? La risposta è sì. Basta fare attenzione al tuo stile alimentare e al tuo stile di vita.